Un corso di formazione per il servizio civile dell'UMPI Abruzzo è stato organizzato a Muratagigotti a Coppito a presiedere i lavori Domenico Fosari, della Proloco Ritorno in Parte, responsabile nazionale dell'UMPI che spiega le potenzialità e tutti gli aspetti del servizio civile, 48 volontari in un progetto che riguarda l'artigianato e regione. Oggi siamo qui a Coppito a fare il secondo corso di formazione dei volontari del servizio civile dell'UMPI Abruzzo. Sono 48 volontari che stanno portando avanti un progetto di servizio civile denominato alla ricerca dell'artigianato in Abruzzo Modelliamola, il futuro con le nostre mani. È un progetto che si inserisce nel filone della cultura immateriale di un territorio ma è un progetto molto molto importante perché fare una ricerca sull'artigianato su tutte quante quelle attività che stanno scomparendo o che sono scomparse fissandone anche momenti storici, momenti importanti è un progetto che va a individuare delle possibili risorse per il futuro per i nostri giovani, per le attività e per l'economia del Paese.